Buonasera cari amici di Teletermini e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Termini in altri termini. Ringraziamo chiaramente come sempre l'edicola Gatto che ci ospita e permette di poter fare queste trasmissioni che hanno lo scopo unico e solo di darvi la possibilità di conoscere i candidati termitani e non che intervengono nella nostra trasmissione e quindi al voto consapevole. Questo è il nostro unico obiettivo. Questa sera come vedete accanto a me c'è una donna, la seconda donna che si candida in questa tornata elettorale qui a Termini imerese. Do quindi il benvenuto a Caterina Massosimone e buonasera. Buonasera a tutti. E allora, Caterina Massosimone la conosciamo a Termini, è stata sempre impegnata politicamente. Sicuramente per lungo periodo, sempre nelle file del centro-sinistra, per lungo periodo nelle file del Partito Democratico, oggi una volta si chiamava diversamente, ha cambiato più volte il nome, ma lei è stata sempre nel direttivo anche di questo grande partito. Era un'assemblea regionale, era un'assemblea regionale a Palermo, proprio l'assemblea regionale del partito. Sono stata anche in commissione programma, quindi ho contribuito alla scrittura, diciamo, di quello che è il programma del Partito Democratico, almeno nelle intenzioni. Esatto. Poi c'è stato, come sapete, insomma il Partito Democratico, ha vissuto una grande riunione, poi un grande decentramento, un grande distacco. nomi importanti, fra cui anche Caterina Massosimone, hanno lasciato il partito, pur continuando ad avere le proprie idee politiche di centro-sinistra e oggi si candida all'assemblea regionale siciliana, nella sinistra, diciamo, nella sinistra della regione con il presidente Fava. Allora, la prima domanda che faccio a Caterina Massosimone è perché ha scelto di candidarsi all'assemblea regionale e perché Fava e non Micari? Allora, io ringrazio tutti per questo spazio che ci date, te in particolare. Faccio questa premessa perché va detto prima quello che penso. Cioè, vedo una campagna elettorale con poca, pochissima possibilità di parlare e questa è una cosa che mi fa molto male. Tu sai che io, quando ho deciso di candidarmi, ora poi ti rispondo, avevo fatto un invito agli altri candidati. Questo lo voglio dire subito. Un invito che mi è sembrato il minimo per chi naturalmente intraprende una sfida. Questa è una sfida perché candidarsi alle regionali non è come candidarsi per un consiglio comunale. Cioè, occorre avere più consapevolezza di sé, occorre avere idee molto chiare, occorre avere anche una forza e un bel coraggio che sono quelle che a me non mancavano. E in questa forza e coraggio, in questo bel solco che mi sono ricavato e che tutti mi riconoscono in questa città, per cui sai, è un vanto per me. Avevo proprio in perfetta democrazia chiesto a tutti di confrontarci. Tu avevi fatto un bellissimo incontro alle comunali con i cinque candidati e pensavo che si potesse fare il bis, addirittura non che si potesse, che si dovesse fare il bis. E non perché l'ho proposto io, ma semplicemente per dare voce a ciascuno di noi e permettere a chi ci sente, chi ci ascolta all'altro lato, di farsi un'idea precisa, anche dal confronto. Perché penso che siano le regole minime di democrazia, quello che un candidato deve dire la sua su un certo argomento e che chiaramente su questo argomento cinque persone hanno cinque opinioni diverse. Quindi questo mi è mancato tantissimo. Mi è mancato soprattutto, diciamo, non dalla vecchia politica, perché magari dalla vecchia politica, però da ragazzi, anche da 5 Stelle, cioè Luigi, insomma mi aspettavo che desse un segnale, invece non ce l'hanno dato questo segnale e io sono rimasta molto, ma molto delusa. E penso che insieme a me anche gran parte dei termitani siano rimasti delusi. Perché il servizio che fai tu è un servizio pubblico, è un servizio di democrazia, è un servizio che questa città si merita. Quindi questo dico, abbiamo perso tutti. Diciamo che siamo rimasti anche un po' delusi dallo scorso confronto tra i candidati sindaco, perché poi alla fine non è stato un confronto, è stato un non confronto in certi... Perché le domande avevano tempi troppo stretti. Ma no, le domande, purtroppo quelle sono dettate da regole ben precise, ma il problema è che erano molto d'accordo l'uno con l'altro. No, sì, troppo d'accordo. Io infatti perché cerco il confronto? Perché non possiamo essere troppo d'accordo. E' stato un non confronto proprio per questo. Comunque, bando alle scienze, ritorniamo alla domanda. No, bando alle scienze, era una piccola premessa a cui tenevo tantissimo. Allora ti dico, perché mi sono candidata alle regionali? Già te l'ho detto. Penso che la mia esperienza, io ho fatto una bellissima esperienza a termine, come consigliera comunale, ti dico solo questo, come consigliera comunale il primo atto che io ho presentato fu nel dicembre del 2014, fu una mozione, una mozione importante contro gli ato, contro la costituzione del lato, allora c'era la costituzione del lato idrico e io allora feci una mozione in cui disse attenzione perché questi ato idrico e poi di seguito lato rifiuti non saranno altro che una dispersione enorme di risorse economiche per tutti i comuni. Questo era nel 2004, vedi come si è poi verificato e si è veramente assolutamente profetico. Quindi esperienza come amministratrice, sono stata un'amministratrice che ha portato in questo distretto, non in questo comune, perché l'assessore alle politiche sociali è presidente di un comitato di sindaci nel quale si destina tutto quello che è l'attività sociale del distretto, è un'attività sociosanitaria. E in quell'occasione, anche in quell'occasione, ci fu una programmazione che ha portato ben due milioni e mezzo di servizi in tre anni a questo nostro distretto. Centri per i disabili, centri per i minori, un centro affido distrettuale con protocollo firmato da tutti i sindaci, uno a uno, sai io sono andata a cercarmeli tutti a uno a uno, l'assistenza domicilare degli anziani. Dopodiché, dopo il 2009, tutto questo finì. Quindi diciamo che sono cresciuta in questo modo come amministratrice. Adesso, a 60 anni passati, posso permettermi anche un'esperienza del giorno, non ci credo però io sceglio, posso permettermi adesso di andare a portare le istanze di un territorio alla regione e di farmi valere così come mi sono fatta valere in tutte le sedi. Il comitato dei sindaci ancora hanno memoria di come si svolgevano i comitati dei sindaci in cui presiedevo io. Quindi ci vuole forza, ci vuole però anche competenza politica e questo è stato il desiderio di andarmi a rappresentare naturalmente alla regione con questa esperienza. Poi, con una sfida come quella che mi ha lanciato Fava, non potevo assolutamente esimermi, Totò. Io sono strutturalmente di sinistra, cioè non c'è niente da fare. Penso che l'essere di sinistra o essere di destra non sia soltanto una collocazione politica, sia un modo di esistere. E quindi se tu sei in un certo modo non puoi assolutamente svicolare. E quindi quando Fava si assume questo onere enorme di riunire la sinistra che è divisa in miliardi e miliardi di gruppi e sottogruppi, ed è quello che praticamente ha fatto finire il ruolo dell'opposizione, che è importante quanto quello del governo in questa parte di Sicilia e d'Italia. E quindi parliamo del fallimento del Partito Democratico. Quando Fava e soprattutto sinistra italiana mi hanno lanciato la palla, io non potevo non essere disposta ad accettare la sfida. Per me ricostruire quel campo è una necessità storica e proprio dell'attualità che stiamo vivendo. Si deve assolutamente ritornare alle appartenenze, naturalmente con le coalizioni aperte, naturalmente con le istanze civili e sociali che vengono dal territorio non esiste più, il comunismo di una volta è meno male, però adesso ognuno deve tornare a fare il suo compitino. E quello che Claudio sta facendo è un'impresa. Io che amo le imprese, anche quelle impossibili, questa naturalmente era una sfida che non potevo non cogliere e mi auguro che lui abbia e si merita tutto il successo, perché veramente sta facendo un'impresa. Noi di sinistra siamo molto litigiosi, e quindi superare questi piccoli personalismi per portare il nostro contributo come valori. E io poi mi vado a candidare portandoli questi valori nei fatti, perché io che cosa ho fatto? Mi sono occupata sempre di ambiente, avevo 20 anni e già avevo oro segretaria del WWF a termini. Adesso sono dentro lega ambiente e stiamo facendo delle battaglie importantissime per il territorio. Come assessore sono stato assessore alle politiche sociali, perché rappresentavo i bisogni degli ultimi. Noi avevamo il sostegno alla povertà, avevamo il sostegno per tutte le persone che perdevano il lavoro, il cosiddetto pronto intervento sociale. Ma quindi se dovessi da onorevole regionale scegliere un campo, perché chiaramente ci sono le commissioni, quali potrebbe essere quella più territorio ambiente? o quelle politiche sociali? O politiche sociali. Se mi dessero la possibilità di fare entrambe le cose sarei felice. Però ti dico, veramente mi sento preparata per entrambe le cose e non potrei scegliere, perché sono tutte e due, il mio cuore destro e il mio cuore sinistro, ma sono dentro di me e nella mia testa soprattutto. Allora, bene o male delle politiche sociali, ne hai parlato del tuo impegno, del tuo impegno così forte in quegli anni in cui hai fatto l'assessore alle politiche sociali qui a Termini Merese, ma dell'ambiente, dell'ambiente che io ho fatto da questa domanda anche ad altri che sono intervenuti qui in trasmissione. Noi abbiamo una zona industriale che sembrava ormai evocata o indirizzata verso la parte più commerciale che non industriale. se non che negli ultimi mesi invece si sta delineando qualcosa di strano. Io lo vorrei ribadire, lo ribadisco ogni volta perché è bene che i nostri amici sappiano quello che sta accadendo. C'è l'Enel che con il progetto Futurè in tutta Italia sta dismettendo gli impianti più vetusti con la collaborazione dell'amministrazione comunale, le associazioni, quindi facendo anche una sorta di raccordo fra il popolo e l'azienda, chiedendo quale potesse essere lo sviluppo di quella zona, di quell'impianto che ormai è in disuso. Ebbene, a Termini questo non è avvenuto qua. Abbiamo avuto quasi un'imposizione in cui un'azienda siciliana insieme a Enel hanno detto al Comune guardate abbiamo quest'idea la prima volta, la seconda volta guardate che quest'idea è bellissima, la terza volta hanno detto o fate come diciamo noi oppure procederemo alle vie legali. Allora, io ti chiedo, lo stoccaggio di idrocarburi, che oltretutto è una cosa che alla Regione non ne sanno niente, questa è una cosa che abbiamo appurato nelle interviste e nelle domande che abbiamo fatto ai funzionari e ai politici regionali in carica. Quindi la Regione Sicilia non sa nulla di quello che sta accadendo a Termini Merese. A Termini Merese però sta accadendo questo, ovvero probabilmente se non ci sarà un'azione forte da parte del popolo, dei cittadini, ma non solo di Termini ma del comprensorio. A tutto il comprensorio. Esatto. Questo è un limite nostro, non ci sono sempre di Termini. Potrebbe accadere che le petroliere o comunque portino questi idrocarburi da stoccare all'interno di queste grandi cisterne che ci sono alle Termini Merese. Allora prendiamo una posizione su questo e sul futuro della zona industriale dei Termini Merese, perché è importante. Allora, io parto da quello che hai detto tu. Cioè diciamo l'arroganza che Enel ha dimostrato in tutto il periodo in cui ha lavorato a Termini, pur avendo dato parecchi posti di lavoro, si concretizza e si chiude con questo atto di forza che ha fatto nei confronti del Comune. Perché se tu vuoi effettivamente cambiare il destino di un'attività dentro un contesto che è quello dell'area industriale che ha delle regole precise, esiste un regolamento. L'IRSAP è un consorzio di tutte le aziende che lavorano lì dentro che si è dato un regolamento preciso. Tra l'altro un regolamento in cui purtroppo i comuni non contano. E questo è il primo punto che io metterei in agenda e in discussione all'ARS. Cioè i comuni non possono non avere un loro rappresentante all'interno di questi consorzi. perché tutto quello che avviene in una zona industriale che è così al ridosso di una città come Termini Merese, ma come tutti gli altri, perché il comprensorio nostro, vedi che i morti per cancro non sono solo a Termini Merese, sono anche a Montemaggiore, sono anche a Cerda, e a Risalire, Finalia e compagnie belle. Cioè ci vuole assolutamente un politico che rappresenta gli interessi delle collettività all'interno di questi regolamenti e di questi consigli di amministrazione, di questi consorzi. Quindi questa è la prima cosa che io andrei a discutere là. Seconda, cioè l'Enel, se dismette la produzione di energia elettrica perché oggi non è più competitiva, è meno male, perché io sono una... Questo ancora non lo sappiamo, però potrebbe... È diminuita però ormai la produzione di energia elettrica. Tu lo sai che si va verso la diminuzione per fortuna delle energie che derivano dalle fonti fossili a favore di quelle naturalmente pulite come potrebbe essere il fotovoltaico dalle nostre parti. Dico, ma qualsiasi cosa Enel faccia non può prescindere da un rapporto di collaborazione con l'istituzione locale che è quella degli amministratori locali e con il sindaco in particolare. Quello che l'Enel vorrà fare ed è una cosa che ci spaventa tutti perché naturalmente è un progetto in cui il transito di cisterne a mai finire, le petroliere che continueranno ad inquinare. Cioè questo significa mettere un'ipoteca su quello che sarà il prossimo futuro che dobbiamo decidere tutti insieme di questa zona industriale. Tutti insieme, non soltanto quelli che fanno attività là dentro. Ecco, qualsiasi cosa di così grosso che si muove non può fare a meno di avere un partner all'interno di un contesto comunale ma anche di un contesto regionale perché noi non abbiamo di fatto un onorevole diciamo tra virgolette perché questo onorevole è proprio un deputato lo vorrei completamente veramente finire con questa definizione. Un deputato regionale che rappresenti gli interessi di un comprensorio. Si discute in questo momento la politica deve ritornare a fare il suo mestiere che è quella di raccordare i territori con le istituzioni. Non ha nessun altro fine non ha nessun altro fine la politica. Questo è. E io in questo solco mi ci vedo benissimo perché noi dobbiamo riprenderci le sorti di questa zona industriale. Io sono dell'avviso e lo voglio precisare che chiaramente le attività che dagli anni 60 hanno dato posto a tante persone e che adesso si è rivelato che questa scelta forse era meglio che non la facessimo perché chiaramente abbiamo visto che la richiesta dell'automobile non è più quella di prima che la Fiat ha avuto una potente battuta di arresto e sappiamo in quale condizione si trovano mille famiglie quasi questo è quello che ha dato la batosta più grossa al nostro territorio cioè questo è veramente il punto di non ritorno perché termini da noi si può rappresentare in un modo quello che era prima con la Fiat e quello che è diventata dopo la Fiat e noi paghiamo un conto da un punto di vista economico enorme non lo possiamo più sanare questa cosa e quindi noi che diciamo dobbiamo risolvere questo problema non possiamo rimanere incatenati quello sviluppo industriale diciamo megalitico degli anni 60 è chiaro che ormai è antestorico parlato riconvertiamo con energia producendo anche qualcosa di diverso vediamo di insediare delle aziende che possano avere un rispetto in più per l'ambiente vediamo come finisce questa impresa questa diciamo sfida della Blue Tech se domani la Blue Tech decide di fare motori ibridi per macchine ibride ma questa è una conversione meravigliosa ma dobbiamo dare tutti forza a questo progetto non dobbiamo fare in modo e lo voglio dire espressamente anche a chi mi dice tu sei ambientalista e non vuoi questo non è così perché quella conversione per le auto ibridi è quello che noi vogliamo cioè quella è una scommessa da vincere però non ci facciamo prendere in giro sempre dai politici che con la Fiat hanno fatto un po' diciamo un po' non tutta la loro parte hanno insomma c'era un intervento forte anche dei deputati nazionali anche di tutti i deputati regionali e comprensori può essere e sostenevano le famiglie e sostenevano i sindacati può essere che quella azienda non ce la chiudevano nel territorio quella era l'unica certezza di questo territorio non ce ne erano altre non ce ne sono più quindi dobbiamo riprendere la fila le fila di questo ragionamento vediamo se loro fanno la conversione e vediamo poi di fare un'altra scommessa nella zona industriale vediamo come si può incidere su questi regolamenti pensando anche alla salute dei cittadini non ce lo scordiamo che il livello dei tumori di termine non è quello di altre città e non ci scordiamo nemmeno che in questo livello di morti non ci sono soltanto i morti per l'inquinamento industriale ma lo smog è la prima causa se domani cambia completamente quello che è il futuro la scommessa vera che anziché usare carburante inquinante come il petrolio come la benzina potessimo avere dei motori elettrici ma noi avremmo risolto un mare di problemi sarebbe la nuova era industriale e quella a cui io con chiarezza mi vorrei veramente rivolgere e vorrei dire cerchiamo tutti anche i politici di dare forza a questa nuova progettazione poi per il resto per il futuro e per il turismo c'è anche da pensarci perché questo non confligge con quella che potrebbe essere anche l'utilizzo della spiaggia l'insediamento di altre piccole imprese ti ricordi quelli che facevano la Santal che cosa produceva ti ricordi come si c'era ancora ora lo sai che ci fanno quello che faceva la stessa linea da dove passava il succo d'arancia lo sai che passa percolato non c'è niente di più tossico i metalli pesanti che saranno depositati e ci saranno in quella zona di mare non lo so quando è che noi potremmo smaltirli mai perché praticamente tu lo sai c'è stata la profineco c'è stato lo sversamento a mare la capitaneria di Porto e noi vogliamo questo per la zona industriale noi no tutte le aziende che inquinano e che fanno male devono essere bandite in questo la politica ci si deve mettere con forza vedi come in cavolo io sono questo ritornando un attimo all'ex Fiat quindi all'attuale fabbrica che dovrebbe produrre auto elettriche ci sono dei ritardi che a volte lasciano perplessi nonostante i fondi che lo Stato ha messo a disposizione la Regione sono davvero enormi come la verità con quale possibilità si può delineare un qualcosa di negativo o qualcosa di realmente positivo noi siamo molto delusi perché giustamente è dal 2011 che questa vertenza cinchioda e che chiaramente sembra veramente bloccata io questo ragionamento lo potrei fare e sarebbe molto più preparato a mio fratello però ti dico semplicemente questo è un'istanza che deve essere deve rappresentare il territorio tutto mi pare che anche la cittadinanza di Termini Merese si è dimenticata della Fiat deve essere ancora un punto all'ordine del giorno e anche i politici tutti si devono mettere di buzzo buono per risolverla questa questione mi pare che si è creata questa dicotomia tra chi è lì e che si batte ogni giorno chiaramente per avere riconosciuto un minimo di reddito che è quello che io praticamente avevo scritto perché ho fatto ultimamente un articolo in cui dicevo anche gli interinali che ultimamente tu hai visto c'è stata questi dell'indotto che non hanno nessuna copertura ma perché per esempio il politico cioè il sindaco non fa un progetto di pronto intervento sociale per dargli una mano a queste persone cioè ci dobbiamo muovere la politica deve dare risposte che non dà più è questo come si è incantato il valore della politica mi sembra che la politica faccia soltanto interessi personali ecco il mio essere di sinistra in che cosa consiste la politica è semplicemente il modo per risolvere i problemi e noi abbiamo questo enorme problema che va va affrontato non soltanto dai politici ma anche con la cittadinanza perché la cittadinanza è quella che ha affermato ti ricordo nei primi anni del 2000 la chiusura dello stabilimento Fiat e adesso la cittadinanza mi pare che stia a guardare in questi ultimi tempi a proposito di cittadinanza che sta a guardare cittadinanza che vede anche sul problema Enel non è che la cittadinanza ci stia dando delle oltretutto l'Egambiente so che ha fatto l'esposto alla procura alla procura della Repubblica perché noi non lo vogliamo questo progetto noi non vogliamo assolutamente questo di conversione questa assenza prolungata costante del popolo dei cittadini anche al voto non è preoccupante noi abbiamo avuto l'elezione di un sindaco al ballottaggio col 47% dei cittadini nemmeno 5.000 termitani nemmeno 5.000 hanno scelto se votare l'attuale sindaco o meno questo è davvero preoccupante e le regionali si delinea una situazione simile a quella del ballottaggio ma allora cosa dobbiamo trasmettere ai cittadini per dire andiamo a votare andiamo a decidere se ancora possiamo sì no io ti do perfettamente ragione sono preoccupatissima il problema è che i cittadini non sanno quale arma hanno in mano quando scelgono un candidato purtroppo dalle nostre parti ed è una cosa che denuncio cioè il voto non ha mai avuto l'importanza e il ruolo che deve veramente avere cioè il cittadino pensa che l'ultimo atto della sua scelta si concretizza con mettere un nome e che sia indifferente un nome rispetto ad un altro no non è indifferente un nome rispetto ad un altro la politica si è ridotta ai minimi termini non difende più nessuno ecco la gente è affamata io sto facendo una campagna elettorale in cui sento veramente i bisogni così incancreniti che le persone si sono incattivite cioè l'allontanamento della politica non è ideologico è una protesta è una protesta ed è giusto che quella protesta loro la manifestano anche in questo modo però ci fa infognare cioè non ci dà svolta perché se tu scegli una persona che ti rappresenta completamente che sai che forza può andare a metterci nelle idee in cui crede e che se è una cosa sola deve avere oltre che questa forza deve avere un'onestà che sia un'onestà di fatto un'onestà intellettuale che ti deve dire esattamente quello che deve fare tu lo sai come la politica ha preso in giro tante tantissime troppe persone per cui la gente non crede più a nessuno e se non va a votare l'hanno detto anche a me signora ma lo sai che io avevo deciso di non andare a votare per le regioni lei mi sta dando una speranza ed è guarda la cosa che mi ha dato più forza e che mi dà più fiducia io dico semplicemente questo andiamoci a votare perché non abbiamo alternative e scegliamo con criterio non scegliamo sempre i soliti che si sa quello che fanno perché hanno già preso in giro troppa gente e che lo continueranno a fare mi riferisco lo dico in maniera chiara a tutti questi onorevoli che vengono da Palermo che molta gente ha visto solo con i manifesti cioè la loro proprio fissionomia lo conosciamo la conosciamo solo attraverso i manifesti ma non li abbiamo mai visti in una battaglia sul fronte lì in trincea dove siamo noi quelli che combattiamo per questa città avrei voluto vederli insieme a noi qualcuno qualche deputato nazionale e tanti altri deputati regionali che adesso vengono a chiedere il voto ai termitani io spero che i termitani sappiano fare il distinguo perché è importantissimo sapere fare il distinguo purtroppo siamo in conclusione perché la chiacchierata è stata interessante però purtroppo siamo costretti a tenere un limite di tempo uguale per tutti quindi io chiedo a Caterina Massusimone di fare un appello finale ai nostri amici che ci guardano da casa da lavoro ovunque e che ti guarderanno in questi giorni e potranno decidere perché votare Caterina Massusimone io dico semplicemente questo che le premesse ci sono state già ho detto perché mi devono votare ma mi devono votare semplicemente per una cosa per l'onestà intellettuale che ci ho sempre messo nelle mie scelte e di avere sempre cercato di metterci la faccia e di dare spiegazioni anche su tutte le mie posizioni ho difeso la città e la difenderò fino alla morte e non ci dimentichiamo di una cosa che quando una persona che viene dal territorio porta le sue istanze lì nel palazzo che è difficile da cambiare il palazzo però è come se mettessimo un seme a germogliare fate in modo che ci sia questo seme che possa germogliare della buona politica è il bisogno più importante che abbiamo ed è l'ancora alla quale ci possiamo salvare se no tutto sarà esattamente come era prima e queste elezioni passeranno in cavalleria tra l'altro i deputati da 90 con la nuova legge passeranno a 70 quindi sono anche più incattividi nel modo di fare campagna elettorale si è visto c'è molta aggressività però non c'è quello che avevo detto prima un confronto fidatevi delle persone che conoscete e questa fiducia è quella che potrà fare cambiare un poco alla volta è chiaro che un poco alla volta ma fare ripartire questa terra che è veramente abbandonata che ha bisogno non di una mano ma di cento mano perché quello che ci manca è il lavoro quello che ci manca è l'attenzione per i deboli quello che ci manca è l'attenzione per l'ambiente e quello che ci manca è una cosa importantissima che è la fiducia che il cambiamento ci possa essere grazie veramente per questo incontro Totò spero che non ce ne saranno più mi mancheranno mi dispiace purtroppo i tempi sono quelli che sono ormai le elezioni sono dietro l'angolo comunque grazie di essere intervenuta grazie a tutti voi per averci ascoltato noi tra poco ritorniamo con un altro ospite io non posso fare altro che ricordare la lista e naturalmente anche naturalmente sì io mi dimentico di una cosa io faccio parte della lista dei cento passi per Palermo Palermo e provincia possono votare tutti i comuni gli 82 comuni della provincia di Palermo ed è quella dei cento passi barrate questa scrivete Mastro Simone e poi accanto scrivete non c'è bisogno di scrivere barrate soltanto Fava che è una di quelle persone più oneste secondo me che ci siano per ora in campo grazie a tutti grazie ancora carico Mastro Simone arrivederci buona serata